Musica Salve a tutti ragazzi sono Casu90 Ed eccoci qua stranamente sulla Hardcasu La super hardcore Che tutti amate L'amate così tanto che ho fatto solo due episodi E dobbiamo arrivare al ventesimo Dobbiamo arrivare al ventesimo Senza che voi mi facciate uccidere Con i vostri commenti Detto questo Allora i due commenti dell'ultima puntata Che ho visto Che erano i più votati Diciamo erano quello stranamente di Alex Pezzo di Alex Che diceva Che dovevo fare la casa Come se fosse una piramide fluttuante in aria Grazie mille Alex E quello di Vip L'altro che mi chiedeva di fare un trampolino Su Praticamente un trampolino Verso Non lo so Verso l'oasi Era giusto Quindi vediamo un po' di Darci da fare Direi prima di tutto col trampolino Di ridipendere un po' di Di legna Di alberi Di non so cosa Perché così almeno Comincio a fare qualcosina Da lì salgo Solitamente Quindi Prendiamo Boh Del legno da qua E via E vediamo un po' Spero che vi sia mancata Questa serie La serie più conosciuta Sul web Oserei dire Sul mondo del nulla Praticamente Nel mondo dei contrari Questa è la serie più seguita Al mondo Non per dire che non la seguiate Ma per il fatto che Non sto facendo episodi Grazie al cipolipo Che non la seguite Non ne sto facendo episodi Non vi sto dicendo niente a voi È tutta colpa mia Tranquilli E niente Spero che vi piaccia Questo ritorno Lo so un po' Al minecraft mio Dove sono Solitamente da solo E stranamente Non ho dormito molto Quindi sarò Probabilmente Un po' logorroico Comincerò a parlare Della mia vita Della mia infanzia No non è bello Della mia Della mia vita sentimentale Con Alex ovviamente E E non lo so Di cos'altro Comunque Il trampolino io Dove lo dovrei fare Se va verso l'oasi Dovrei trovare un albero Che Mi faccia buttare Verso lì Il trampolino Credo lo voglia Lo voglia Quelle scalettine Quelle strane Quindi dovrò fare Un paio di quelle Spero crescano Scusate Se ho dato un colpo A microfono Spero crescano Quelle dannate Piantine Lì sotto Perché Se no non so come fare Davvero Col cibo Intendo Poi Perché nessuno Ha detto che io Dovevo andare a prendere cibo Quindi Al momento Non andrò A prendere cibo Ah è giusto Devo fare il trampolino E dire Per fare il trampolino Di fare una roba del genere Di fare quelli così E Vabbè Sei Tre Boh sì dai Possono bastare No Sei trampolini Per me Possono bastare Ok Così credo vada bene E Non so ancora come fare La piramide Come mi ha detto Alex Perché Che cosa si aspetta Che io faccia Non lo so Però Sarà una sorpresa Per tutti Ovviamente Eh non dovevo prendere Questo ho visto Una mela Dov'è la mela L'ho stravista Scusate un attimo Perché mi serve Perché mi serve da mangiare Quindi Tutto quel cibo Che riesco a prendere L'ho Un pollo Aspetta un attimo Ecco la mela Ecco la mela Ecco la mela Ecco il pollo qua Scusami pollo Ma ti devo far fuori Alla svelta Anche Mori Ok Perfetto Continuo a non capire Perché su minecraft Io non posso Prendere anche Oltre alla lana Dalle pecore La loro carne Visto che Non sono animali Solo Provisti di lana Cioè hanno anche Altre qualità Ovvero carne Quindi Non so Comunque direi di mangiarci Ah due mele addirittura Mi gusta Mangiamocene una Eh ok Siamo a posto Allora Si sta facendo notte Direi di andare a letto Perché non voglio morire In mezzo a A mostri Eccetera Non voglio essere ucciso Da nessuno Quindi vediamo un po' Di farci una bella dormitina Così Non dovrebbe Romperci le balle Nessuno Ok non c'è nessuno Non so perché Ma mi sembra che mi fada Un po' scatti Minecraft Un po' che tira impossibile Visto che ho I Che il computer che ho Ovviamente Ecco 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 L'albero per fare il trampolino Ho appena trovato VIP Dovresti essere contentissimo In questo momento Solo che non so come salirci Quindi vediamo un po' Ci facciamo un po' il giro Non lo so Qua c'è una caverna Di già Boh Sì Una caverna Sì Mi sembrava che io Sì Così E Devo riuscire a non cadere E a non restare in stack Su sta roba E devo Salire Sopra quell'albero Questo Qua non ci sono mostri Niente No Lì c'è altro E' pieno di cacao E' pieno di cacao Mi farò un sacco di biscotti Per fortuna Vai via Ok Fammi passare Ok Ce l'ho fatta E Se il trampolino Deve andare verso l'oasi Direi di farlo Ha detto di farlo su un albero Quindi Lo faccio qui Più o meno Qui Così Mi piace di più qua Ok Allora No Oltretutto non devo scavare con sta cagata Quindi scaviamo con Questa Che così si rompe E via ce la butto Allora Il trampolino Vediamo un po' se posso costruire sopra le foglie Non me lo ricordo neanche Genialmente parlando Non mi ricordo proprio niente E Si fa Ok Lo faccio Facciamo così No Ne ho sprecato uno Ok Due E Qua Ah che trampolino Lo provo fra un po' Aspetta un attimo Lo faccio più grande Poi Se vuoi un trampolino Diverso Vip Me lo dici nei commenti E te faccio un altro Ah forse però ho capito No ma hai detto da un albero Quindi non devo neanche fare Chissà cosa Ok Vediamo un po' se funziona Uno Due Funziona Funziona la grande Quindi il trampolino Direi che è fatto Eh Su questo non puoi dirmi niente Il trampolino l'ho fatto Fammi prendere un attimo la spada Perché Voglio un attimo esplorare qua Tre secondi Senza morire Ovviamente Io sto solo Poco a poco esplorando Perché se muoio la mappa Si fotte Per chi non lo sapesse ancora Nel mondo di minecraft E così Se muori in hardcore Mori per sempre Adesso direi di Cominciare a fare la casa Piani come una piramide Vivo Stronzo di merda Te lo continuare a dire per sempre Allora vediamo un po' Come potrei fare la casa A piramide Allora se la casa è iniziata qua La piramide La facciamo partire da qui Così Uno Due Che schifezza mi stai facendo fare Guarda Ti odio Vai Eh Eh che cazzo Troppo Se mi arriva un creeper da dietro Mi incazzo parecchio Non ce ne sono Sono girato alla spartzenegger Sento anche topi E come sapete io Ho un terrore dei topi No non è vero Mai avuto terrore dei topi Però Devo fare Questa metterla qua Questa la metto qua Questa la metto qua C'è Alex Ti odio Cristo Allora E E basta Così è perfetta Non ho capito Se vuoi che faccia Un piano Proprio Boh Non lo so Se vuoi che faccia Una piramide Proprio Oppure fare tantissimi piani Io Boh Vabbè La faccio così Via Così Eh Così Via Questa è la tua piramide Del canto Rumore pessimo Vabbè Eh No Non voglio saltare Su ste robe Che mi servono Eh Sino a qua Ok Ora faccio Un pochettino di Così posso anche Prendere E fare altro Ah ah Posso Posso fare qualcosa In più lì Qua metto Un'altra di ste robe E nel mettere Aspettate un attimo Perché mi cerco Un altro po' di Di piantine Da mettere Perché Non è possibile Ho troppo poca roba Davvero Eh Con una buona Oh Un'altra mela Sono fortunatissimo Oggi Non ne trovo mai Di mele Anche spaccando 20.000 alberi Oggi Ce l'ho fatta almeno Prendi un'altra mela Eh Fai Sta roba Distruggi Oh Semino Via Sto lavorando Come un pazzo Proprio Guarda Una massaglia Proprio Un coltivatore Dei campi Provetto Come Mi dicono Solitamente Stai sempre lì A Piantare A mettere le piante Il grano E tutto E' vero Mi piace fare il coltivatore Non ci potete fare niente Su questo Purtroppo E' la mia passione Il mio motivo di vita Chi non lo accetta Può solo Non accettarlo Allora Qua Vabbè Un po' innaturale Ma non fa niente Ne ho presi due o tre Tre Ok Allora Fino a tre Paf 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 Ok E La coltivazione dovrebbe andare Già Meglio Un pochino Almeno Mettiamoci un'altra torcia Qui a schifo E saliamo su E vediamo un po' Allora Io l'ho fatto lì La roba Comunque Un ottimo Un ottimo ascensore Questo Non sembra Però è buono E' più veloce Sicuramente Allora Vediamo un po' di capire Dove sto facendo la roba La sto facendo qui Quindi se io Scavassi qua Non potrei passare Ma se Scavassi qua Si Perfetto Voglio fare una specie di Di piano Visto che devo salire E scendere Credo di Visto che è anche piccolina Come stanzetta questa Credo di dover mettere Una Delle Delle scalette Quindi me le faccio adesso Non mi ricordo come si fanno Eh Si Boh Così Vediamo un po' E siete giuste Non è neanche contato Oh Genio Genio Non guardatemi troppo Perché potreste prendere parte Della mia genialità Che sarebbe una cosa buona Per voi Ma non per me Perché non sarei più l'unico A fare delle robe così Forti E pro E tanto E tanto altro Vediamo un po' Io ora scendo Ok E questa è La parte del piano Ok Se io qua Metto il coso Dovrebbe Portarmi lì Ci sta Ci sta Via Vediamo un po' Di Mettere qualcos'altro qua E devo arrivare Sino Al Al punto Per far la Piramidale Il più possibile Questo è l'ultimo punto Quindi qua Qua E' l'ultimissimo Ok Così E così Eeeh La piramide Eeeh Boh Questa come cacchio Così Ok Mentre abbiamo le pecore Qua vicino Bellissimo Essendo sardo Sono veramente Compiaciuto Di questo fatto Così Evitate di farmi Battute sui sardi A pecore E via Ve la dico io Direttamente Ah bella Mmm Che la Che lanugine setosa Che Che lana Sopraffina Vorrei tanto Ingroparla Sì Guardami Oh sì Bella Adesso siete contenti Che ho fatto Un giochino sui sardi Visto che sono sardo Eeeh Viva Siamo tutti contenti Non c'è bisogno Che li facciate voi Se li fate Fate Il vostro rischio È pericolo Alex potrebbe Sbucare Dalla vostra Sieda Da dietro E mangiarvi Ok E la prima parte La piramide È fatta Yuhu I'm very happy For this moment Ah supposo Vieni qua che ti ingropo Bella Sì Fammi sentire La tua lana Eeeh E la sensazione Che Eeeh Eeeh Comunque Se deve essere Una piramide Direi che un altro piano Non ci sta qui Però Posso fare Ste cagate Così Eeeh Eeeh Olè Mitica piramide Vai Proprio Mi sembra Di essere Tornato Nell'antico Egitto Uguale Puff È bellissima È Bellissima Guardate Che Un gattino Cazzo Non si può trasformare La lana In stringhe Di nuovo Vero Dove per forza Prendere Che palle Perché Volevo Volevo fare In modo Di Di farmi Una canna Da pesca In modo Anche da prendere Il gattino Magari Con Con i pesci Così Creeper Dovrebbero starne Lontani Se me lo tengo Appresso Sarebbe anche utile Un cane Però Non ne ho trovato Quindi Oltretutto Non ho carne Quindi sarebbe anche Inutile Eeeh Mentre sto prendendo Sta roba Perché potrebbe Servirmi E via Almeno Non Non resto Senza Non dovrei restare Senza Qua dentro Sento rumor Eeeh Visto che Dobbiamo fare La piramide Devo continuare A prendere Un po' di legno Eeeh Ragazzi Se non mi scrivete Voi Che fare Merito Anche qualcosa Di interessante Sarebbe gradito Eeeh Io farò Solo Quello Quello Che mi dice Chi riceverà Più Più voti Positivi Tra i commenti Ovviamente Non abbiate paura Di commentare Io Accetto Tutto Eeeh Però Solitamente Colui che riceve Più voti Positivi Allora Ha il Il commento Qui Sulla Sulla Mappa Sulla Anzi Sulla modalità Quindi voi Almeno tentatela Scrivete Mettete tipo Ah io vorrei Vederti Fare una lap dance Su un creeper Però questo Mi ucciderebbe Quindi non so Non so se vi convenga Scriverlo Voglio proprio Robe che Che siano Fattibili Qua Almeno Che diavolo sto facendo Ok Qua così Direi di farmi almeno un altro Sì perché ho chiuso Non ne ho idea Però di farmi un altro baule Così è più grande E mi gusta di più Facciamo sta roba E vai Bellissimo Fantástico Che roba sublime Secchio Ok Qua è tutto fatto Quindi direi che Per procedere al prossimo piano Devo trovarmi un modo Qua Salgo qua Via Prossimo piano Continuerò a costruire piani Sino anche Via Così Si sale Tutto così Si sale Uscirà la casa Più bella del mondo Ciao gattino Ciao gattino Che poi sembra più un Un pu Non un pu Ma un leopardo Non lo so Da come è colorato Ma è un gattino Allora vediamo un po Io direi Qua E qua così Ok Così abbiamo la struttura Per poter costruire fuori E vediamo un po' Costruire sta cazzo di piramide Dannato tu sia Colui Che ha scritto questo commento Aia Però vabbè Spero di farvi divertire Almeno queste stronzate Via Non so neanche quanto sto registrando Io faccio sta roba qua fuori E basta Perché tanto Il commento diceva Esplicitititatamente Diceva di costruirla nel corso Del Della puntata Cioè delle puntate Quindi non subito Non dovevo fare subito Una piramidona enorme Ho costruito il trampolino Che mi ha chiesto VIP Sto costruendo la piramide Quindi ragazzi Io vi invito a mettere un mi piace A commentare Proprio in molti E a mettere E a controllare anche i commenti degli altri Per mettere un mi piace A seconda delle vostre esigenze Diciamo Magari vi piace un commento Che ha messo un altro Tipo Non lo so Caso mostrarci il pene E se il commento Non dovrebbe uccidermi Però Non potrei farlo Visto che non c'è la webcam E E Ho la scusa Quindi Non saprei come farvi vedere un pene Potete anche dirmi Il costruire qualcosa In particolare Come ha detto VIP Tipo Boh Qualsiasi cosa Voi fate volare la fantasia E ci vediamo presto qua Su un'altra puntata Sulla Hard Kaz Per fortuna L'ho ricominciata Devo dire Ciao a tutti ragazzi Digg in Minecraft Style Minecraft Style Digg 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 in Minecraft Style Minecraft Style Digg 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 in Minecraft Style Grazie a tutti.